Tu lo doppi, però dici questo prodotto da spettatore e basta, non lo vedrai mai, ok? Però nel momento in cui tu stai doppiando, a questa cosa non ci pensi, o almeno io non ci penso, cioè non è che dico ok, questo prodotto non mi piace, non lo guarderei mai e quindi lo faccio male, cioè non riesco a coinvolgermi. Io in quel momento sono concentrato su quello che sto guardando e ci sono dei momenti in cui effettivamente mi sento molto più preso dalla scena, mi sento molto più coinvolto emotivamente e delle volte in cui riesco a percepire questo distacco di cui appunto parlava Simone e non lo so nemmeno io se questa cosa è giusta oppure non è giusta. Sono sempre fatto mille domande a riguardo, ho detto ma sono sbagliato io, sto facendo le cose nel modo giusto, non sto facendo le cose nel modo giusto, non lo so.